Per l'ennesima volta dei politici locali operanti nel territorio parmense dimenticano che il corpo docente e il personale tutto della scuola statale ha una sua compagine rappresentativa legittimamente eletta su base nazionale. Nessuno da Medesano si è preoccupato di avere la delicatezza di informare ufficialmente le sei organizzazioni rappresentative, tra cui anche la Gilda Unams, Gilda degli Insegnanti, di quanto sta accadendo alla Scuola dell'Infanzia di Sant'Andrea Bagni che tra poco dovrebbe temporaneamente trasferirsi a Felegara per criticità relative alla sicurezza dell'edificio scolastico. Nel solo territorio dell'ambito scolastico di Parma e Piacenza le organizzazioni del comparto parlano a nome di circa 13.000 addetti che operano nelle scuole statali. Evidentemente gli esponenti della politica locale dimenticano questo dato che dovrebbero conoscere o imparare per il tramite dei partiti di appartenenza. Salvatore Pizzo, coordinatore della Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza, precisa, prendiamo atto e ove dovessero esserci i presupposti ci riserviamo opportune azioni.